A tutti i giovani, anche ai meno giovani, di interessarsi alla politica perché fa parte del quotidiano. Se io non riesco a raggiungere l'università perché il pulpa non passa, non è un problema del pulpa, non è un problema di politica, di amministrazione sbagliata. Quindi bisogna interessarsi alla politica perché fa parte del quotidiano e la viviamo ogni giorno. La politica sbagliata la sentiamo sulla nostra pelle, quindi mi raccomando interessiamoci e andiamo a votare per non accontentarsi di quello che scegono gli altri, che non è che è la scelta tutta. Salve, sono Daniano Barbato, candidato a la decima municipalità. Volevo solo dire pochissime parole per quanto riguarda la zona di Spagnoli. Quando riguarda la zona di Spagnoli, che è stata abbandonata da tanti e tanti anni, noi ci siamo sempre in Italia a fare, siamo sempre sul territorio, con i cittadini, con tutti coloro che ci vengono incontro. Noi riusciremo a cambiare le cose, perché Spagnoli vuol dire futuro, futuro per i giovani, un lavoro per tante persone e un ambiente sano e buio. Grazie. 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 Signore, signori buonasera. Buonasera, signora riguita. Io sono l'ultimo nella carretta e vi parlo per ultimo, però vi posso garantire che ho qualcosa da fare per i cittadini, per me che sono un cittadino e per gli altri, perché è importante che tutti i cittadini si mettano assieme per realizzare un sogno, un sogno della legalità, della trasparenza e del benessere di tutti quanti noi. Io ho promesso a qualcuno di Bagnoli che dopo le riunioni della Municipalità io sarò in mezzo a loro per dire che cosa hanno fatto, cosa vogliono fare e cosa noi vogliamo naturalmente fare. Questo è il mio programma. Grazie. Non abbiamo chiaramente presentato tutti i candidati consiglieri alla virtualità perché non sono presenti. Passiamo la parola al nostro portavoce alla Camera, Carlo Sipiglia. Grazie. Vorrei stare un po' più in piedi così mi vedete tutti perché sennò sembra difficile. Disturbiamo un po' la quieta di Bagnoli. È necessario perché bisogna un po' dirsi le cose come stanno. Signori, io volevo innanzitutto ringraziare questo gruppo di persone che ha fatto una lunghissima campagna elettorale e lo dico guardando tutti questi simboli che ci circondano, Forza Italia, Partito Democratico, lo hanno fatto come unica forza a non aver mai preso neanche un centesimo di finanziamento pubblico. È solo un presidio di libertà. Un presidio di libertà che oggi prende la corrente da un bar. E queste sono le cose che fanno anche rinascere la passione per la politica. E questa è la differenza rispetto agli altri. Perché dovete votare noi e noi altri? Il voto è una cosa che viene automatica quando spiegate quello che noi stiamo realizzando. Noi ci siamo candidati e qui c'è anche Roberto Figo, ci sono altre persone che ci hanno seguito dall'inizio. Nel 2010 alle elezioni regionali in Campania contro Vincenzo De Luca. Noi abbiamo preso alla fine di quelle elezioni l'1,32% e ci davano tutti per spacciati, eravamo morti. E invece oggi grazie a quei principi saldi e grazie al grande lavoro che abbiamo fatto poi anche in Parlamento siamo riusciti ad entrarci in quel Parlamento e oggi ci troviamo le più grandi città d'Italia. E noi probabilmente il 5 saremo ai vallottaggi in tantissime grandi città. Roma, Torino e anche Napoli dove ci sarà Matteo Maldonso al vallottaggio con gli altri. Ma perché dovete guardare la politica in maniera diversa? Ma non perché io lo so benissimo che qua tutti pensano è arrivato un altro politicante. No, io oggi voglio raccontarvi la storia dei numeri del Movimento 5 Stelle. Oltre ai 42 milioni di euro di finanziamento pubblico che abbiamo rinunciato ma non perché dobbiamo essere più belli e più bravi degli altri ma perché nel 1993 i cittadini italiani hanno votato un referendum e hanno detto basta con questi soldi ai partiti politici e noi senza fare una legge, senza essere al governo, senza essere maggioranza semplicemente non dando l'Iban dei soldi che dovevamo ricevere ne abbiamo rifiutati ed è la prima grande promessa che abbiamo mantenuto. Tre cose ci avete sempre chiesto, tre cose avete chiesto a tutti i parlamentari l'avete chiesto a Capolini dei Bar, ecco perché siamo nati noi per fare tre cose, la prima qual è? Ci avete sempre detto ma i politici stanno sempre attaccati a queste poltrone per anni e anni e anni, stanno sempre là a Consiglio Comunale e poi la Regione e poi vanno in Parlamento e il Movimento 5 Stelle cosa ha fatto? Come autoregolamento, ha risolto questo primo problema massimo due mandati, basta con la gente che vive di politica di fare due mandati e poi ritorni a fare il lavoro che facevi prima non avevi un lavoro prima e lo vai a cercare e capisci il disastro con cui hai lasciato quell'uomo aereo molto semplice, già tutto il problema risolto senza fare leggi, semplicemente con un'autoregolamentazione del Movimento 5 Stelle. La seconda cosa qual'era? La seconda cosa che tutti quanti abbiamo sempre contestato ai partiti politici e alla politica. Troppi soldi, i parlamentari prendono troppi soldi, anche a me arrivano ogni mese tantissimi soldi ed è per questo che siccome nel 2013 avevamo promesso a voi cittadini che ci avete dato fiducia, ci saremmo dimezzati quello stipendio è esattamente quello che abbiamo fatto è esattamente quello che abbiamo fatto, non mi fate l'applauso qua noi abbiamo restituito 16 milioni di euro dei nostri stipendi tra deputati e senatori in un fondo per le piccole e medie imprese un fondo che dà la possibilità a nuove imprese di aprire e nuove imprese di dare vita, nuove imprese di dare lavoro e non è stato mica semplice abbiamo dovuto dormire due giorni e due notti davanti al Ministero dell'Economia e Finanze per avere un ipad in dove versare i nostri soldi perché in questo paese è diventato più facile ruffare che dare i soldi in guerra allo Stato e allora perché oggi questo risultato è un vanto? perché oggi si festeggia un anno dall'apertura di quel fondo e dopo un anno abbiamo dato un finanziamento grazie a questo fondo a 1.852 nuove piccole e medie imprese per un totale di 4.000 posti di lavoro creati è qua che ci sta l'applauso perché perché significa aver dato la possibilità ad altre persone che avevano perso la fiducia in questo paese di capire che c'è qualche politico la politica che sta a fianco che ci dà la possibilità di investire allora questo è il vero cambiamento e poi la terza cosa la terza cosa che ci avete sempre chiesto che noi abbiamo chiesto a tutti i politici basta, basta con questa gente che è tutta condannata e arrestata oggi il Movimento 5 Stelle io oggi sono qui a metterci la faccia davanti a tutte queste persone io molti non li conoscevo li ho conosciuti oggi sicuramente Matteo Brambino lo conosciamo che è il nostro candidato a sindaco ma tanti altri non li conoscevamo perché un parlamentare viene qui e ci mette la faccia? perché la prima cosa, la prima regola per essere parte di questo movimento è avere la fedina penale pulita l'unico gruppo politico che non ci può dire zero condannati e zero arrestati è il Movimento 5 Stelle gli altri non possono dire la città bisogna continuare con un pizzico, un altro po' ascoltatemi, di critica politica perché non dovete votare? innanzitutto la valente lo dico chiaramente la valente è appoggiata da un delinquente che si chiama Verdini un condannato per corruzione che non ha avuto un piede in questa città dovreste cacciare a calcio e invece noi gli facciamo fare le riforme il Partito Democratico gli fa fare le riforme e il Partito Democratico si fa appoggiare da Verdini quindi già questa penso che sia un'equazione semplice noi non abbiamo i condannati non abbiamo arrestati il Partito Democratico ce li ha la seconda e questa è un po' più difficile perché non dover votare De Magistri? perché dietro questo simbolo c'è una cosa fondamentale che gli altri non ci avranno mai è un sogno è un progetto un progetto di europarlamentari gente che sta nell'Europarlamento di deputati alla Camera dei Deputati dei senatori al Senato della Repubblica in Regione Campania nei comuni dalla Sicilia alla Valle d'Aosta abbiamo tutti lo stesso progetto vogliamo tutti la stessa cosa e questa è la differenza tra noi e De Magistri De Magistri vuole fare l'uomo solo al comando noi siamo un progetto siamo un sogno che stiamo realizzando in tutte le parti d'Italia dove siamo noi siamo un sogno e finalmente è questo che cambia è un'uomo solo al comando basta con questa gente che pensa di essere un mamma santissima della politica sì magari è una bella storia ma la politica è questo è parlare con le persone realizzare dei fatti dei progetti e allora veniamo a questo veniamo al fatto che il Movimento 5 Stelle non è più una scommessa oggi il Movimento 5 Stelle è una certezza prima ci stava a votarci per protesta oggi ci dovete votare perché credete in quello che già abbiamo realizzato in altri posti d'Italia e vi faccio un esempio molto semplice a Livorno siamo entrati nel comune di Livorno abbiamo aperto i bilanci dell'azienda Aps che aveva 42 milioni di euro di debiti l'azienda che recupera rifiuti ha 42 milioni di euro di debiti come è possibile? perché in 60 anni quell'azienda veniva usata come ufficio di collocamento dal Partito Democratico poi gli dava il voto e loro si assumevano una persona in quell'azienda e così 42 milioni di euro di debiti vi ricordate cosa succedeva prima? arrivava alla sinistra apriva i bilanci ci sono 42 milioni di euro di debiti eh ma le ha fatti la destra poi dopo 5 anni votavate la destra la destra apriva i bilanci diceva eh ma ci sono 42 milioni di euro di debiti ne ha fatti la sinistra è arrivato il Movimento 5 Stelle e ha tolto questo velo di ipocrisia ha trovato la soluzione ovvero abbiamo preso i bilanci di quell'azienda li abbiamo portati in tribunale uno due abbiamo fatto un concordato preventivo ne abbiamo stabilizzato 33 lavoratori precari più di questo non so cosa si potrebbero fare in grado e non è solo qui e non è solo qui andate a chiedere cosa succede a Pomezia pensiamo dove dove abbiamo un altro sindaco Pomezia Fabio Fucci Fabio Fucci ha trovato quando è diventato sindaco ha trovato nel Movimento 5 Stelle ha trovato un bilancio con 7 milioni di euro di perdita il primo anno l'ha dimensato a 2 milioni e mezzo il secondo anno aveva più soldi 4 milioni di euro da investire per i giovani per gli anziani per l'ambiente per i servizi per le bonifiche il terzo anno è arrivato a 7 milioni di surplus io ho chiesto a Fabio ma come hai fatto? Fabio qual è il tuo segreto? sapete cosa mi ha detto un sindaco del Movimento 5 Stelle Fabio cosa ha detto? mi ha sistetizzato con una sola frase mi ha detto Carlo è bastato non rupare è bastato non rupare alle volte alle volte le soluzioni sono molto più semplici di quelle che ti vengono ha semplicemente messo a bando dei servizi che prima venivano sempre dati agli amici degli amici e chiaramente se tu mi dai un servizio e so che lo dai sempre alla stessa azienda sono alcun interesse a migliorare quel servizio e te lo faccio pagare tanto ed è così che si risparmiano i soldi altra cosa che sta andando tantissimo in questi giorni la legge dei sui giornali addirittura i giornali la stampa ma come? qui c'è il presidente della commissione di vigilanza rai il candidato al sindaco di Napoli c'è un deputato della Repubblica e non c'è un diavolo di giornalista è un giornale che ci sta facendo un'intervista è gelosia è gelosia è gelosia invidia ma come mai? invidia è gelosia come mai? forse perché siamo nella bagnoli di Caltagirone quello che c'ha in mano il mattino quello che ha comprato il mattino il socio di maggioranza del giornale più importante della campagna che ci riempie di balle da quando ci sta lui a crescita presente è questo forse? è questo il vero motivo? allora l'informazione è un altro dei problemi però noi la stiamo scavalcando perché le cose sono talmente rivoluzionari che non le puoi fermare anche se non le dici allora un'altra cosa che sta succedendo è che oggi a Livorno abbiamo finalmente un esperimento di quella cosa che noi abbiamo sempre detto e nessuno ci credeva il retto di cittadinanza questa misura che dà finalmente 780 euro a tutti gli soccupati e gli inoccupati in quanto devono cercarsi un lavoro e noi gli diamo tutti gli strumenti all'interno della legge ci sono c'è la formazione e anche per i pensionati se andasse in porto questa proposta di legge ogni pensionato non prenderebbe più 450 euro al mese ma 780 come minimo allora questo cosa vuol dire? quella è la proposta a livello nazionale ma nei comuni dove ci siamo noi già l'abbiamo realizzata e il comune di Livorno è partito con la sperimentazione e quindi già stiamo realizzando il regno di cittadinanza comunale a Livorno e anche questo è un altro risultato e queste cose non ce le possiamo dimenticare queste sono cose che non ci leverà nessuno io ho cominciato questa avventura che avevamo 1,32% e oggi guardate cosa stiamo realizzando realmente con un processo di partecipazione non si ruba più non finiamo l'intercettazione e a più volte ci finiamo ci finiamo l'intercettazione il sindaco di Civitavecchia del Movimento 5 Stelle ci ha finito in intercettazione ma sapete cosa dicevano di lui i delinquenti e i mafiosi che venivano intercettati? dicevano guarda che a Civitavecchia noi non abbiamo copertura questi qua sono incorruttibili bravi io non dico che noi siamo i figli dei gatti non lo dico metteteci alla prova però avete avuto la destra avete avuto la sinistra se vi volete sempre accontentare accontentare e mai fare un passaggio semplicemente di fiducia in voi stessi di coraggio è questo che cambia che fa tutta la differenza del mondo allora il 5 giugno mandiamo il 5 giugno mandiamo Matteo Trammilla a giocarsi in pallottaggio con chiunque degli altri grazie grazie a tutti ok allora adesso volevo passare la parola un po' ai candidati consiglieri per il comune di Napoli sì 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 L'aria un saluto ai cittadini di Bagnoli facciamo sbagliare a tutti i consiglieri candidati al consiglio comunale buonasera dopo che ha parlato Carlo voglio dire ha detto tutto quello che poteva al di là di questo io invito veramente la cittadinanza ad andare a votare tutta perché la differenza la faranno gli indeciti e vi voglio confessare una cosa io ora sono candidata ma se devo una cosa al movimento è veramente la cosa per la quale ringrazierò a vita il movimento è quello è il regalo più grande è quello di avermi fatto di nuovo tornare a votare e a partecipare alla vita pubblica brava brava Camillo Guerra Polizio Russo Polizio Buonasera a tutti sicuramente è un grande piacere essere qua a Bagnoli perché è un po' la storia della nostra vita della nostra città insomma è una storia antica iniziata all'inizio del novecento che ha portato la grande industria in una città del sud Italia che in verità non era per niente al digiuno di industria perché era una città industriale Napoli era una delle città più industriali dell'ottocento italiano e però diciamo che poi è nata qui la è stata la tulla della classe operaia vera diciamo quella dell'industria insomma tosta metano meccanica eccetera io me lo ricordo perché insomma facevo le manifestazioni negli anni settanta degli anni ottanta c'erano quegli operai che ci davano la carica che ci davano la forza e lavoravano nella gran parte qua a Bagnoli quindi è un luogo di grande importanza per la città è un luogo che ha sofferto perché la fabbrica significa inquinamento significa vivere male significa cattiva qualità della vita e oggi effettivamente c'è un grande bisogno di disarcimento per tutta quanta la città affinché diciamo diventi un luogo per i cittadini aperto ai cittadini che sia una risposta alle esigenze profonde dei cittadini noi siamo impegnati su questo su questo piano e ovviamente il nostro impegno su Bagnoli sarà massimo perché è uno spazio che deve restare della città dei cittadini impediremo chiunque voglia metterci le mani sopra e chiunque voglia fare diciamo degli affari sulla pelle ancora sulla pelle dei napoletani su questo ci stiamo ci stiamo impegnando molto già da tempo siamo attrezzati su queste cose però è sempre il rapporto dei cittadini sentite da voi la vostra opinione il vostro parere è soltanto in questo modo che si potrà costruire un futuro per questo quartiere e per la nostra città grazie a tutti bravo Stefania Palermo buonasera sono Stefania Palermo e vivo a Bagnoli per cui la conosco benissimo ed è veramente un peccato dover vedere che i miei figli sono abituati a vedere questo tipo di degrado e io non cioè per far vedere qualcosa di bello devo portare i miei figli altrove per andare al mare devo andare altrove è una cosa che non riesco ad accettare stamattina sono andata a Lido Polla dalle parti di sopra le parti di noi sembra che c'è un dopoguerra una cosa orribile sono portate i bambini ad una pettisola lì e dice mamma ma qui che succede è una vera indecenza allora noi del Movimento 5 Stelle siamo dei semplici cittadini io lavoro faccio l'avvocato non sono un professionista della politica e quello che voglio dire noi agiamo con il cuore e sicuramente con la volontà di portare Bagnoli e comunque Napoli che è una miniera d'oro e quindi a quello che era prima soprattutto Bagnoli che era una zona stupenda che aveva d'estate il mare e d'inverno i centri termali e quindi questo è un luogo di villeggiatura meravigliosa ischia campa di terre di terme e di mare quindi non vedo perché noi ci dobbiamo accontentare di questi orrori grazie mille sono bella ok Adriana Adriana Sanziola facciamo ah va bene stiamo chiamando un po' chi se la sente saluto Salvatore Morra maestro 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 che devo dire buonasera sono Salvatore Morra candidato al comune alla decima municipalità avevo un discorso di due ore però lo concentro in 30 secondi abbiamo fatto macinato chilometri in questi 30 giorni abbiamo incontrato cittadini commercianti giovani abbiamo avuto una grande soddisfazione che tutti sono interessati al Movimento 5 Stelle non la prendo lungo una sola cosa avete un'arma molto forte che è la matita tracciate un segno sul Movimento e diamo vittoria al Movimento 5 Stelle avanti tutto con il Movimento buonasera dunque voglio dirvi voglio dirvi solo qualche cosina a proposito del Movimento a noi ci tacciano di inesperienza ci dicono che noi non siamo esperti della politica è vero e ce ne vantiamo perché questa è la nostra forza noi siamo tutte persone che erano di là e che hanno deciso di impegnarsi da quest'altro lato non è necessaria l'esperienza perché se l'esperienza in politica deve portare a questi disastri è meglio non averla l'esperienza è meglio partire con una giocola rasa avere le mani pulite il cuore sincero la voglia di mettersi a studiare sui problemi e pensare alle soluzioni senza pensare alle proprie tasche senza pensare ai propri interessi e sapendo che è un gioco che deve finire non possiamo vederci persone per 70 anni sempre lì a prendere stipendi e le famiglie a prendere i vitalisti la politica non deve essere un lavoro deve essere una missione ed è un grande rompimento di palle è importante che noi ci rompiamo le palle a vicenda ogni tanto a turno va bene due mandati e a casa votate per il Movimento 5 Stelle cambiare si può si può cambiare votate Movimento 5 Stelle Matteo Bambilla Buonasera sono la minuita candidata al comune di Napoli e ci volevo far fare una piccola riflessione in questi giorni di campagna elettorale avete visto tutta la città imbrattata di facioni con i vari fessi questa è stata la nostra campagna elettorale questa è stata la mia tutti i giorni su un unico valentino e ne abbiamo fatto il miglior numero possibile e quando qualcuno non lo voleva ce lo direvamo un'altra volta perché non lo volevamo spregare perché non spreghiamo nulla questi signori ci hanno già trattato tutta la città come pensate basta basta devo votare sì devo votare sì 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 ok ok e volevo dire che il conflitto è bello, se mi chiedevo il Presidente, e dalla tramita più forte, i cittadini di Spagna non sono stati penati e le stesse. Il successo, con un incertidato, ci chiamano praticamente il senso del gruppo europeo, per la possibilità che non è mai stata fatta, abbiano rispettato se non si potabilmente con quelli là che erano sottotitoli, prendendo ancora di cura, macchia di scuola. Sono stati ancora trombati quando hanno messo un teo di plastica dopo alla pianta, sono stati completamente contaminati, noi facciamo anche le analisi delle acque, e non sono fuori, ma non si vedevano da disabolizzare. Un'altra cosa che è importante, che sono contenta, che questa decima municipalità è riuscita ad essere presa dal Movimento Cipolletene, visto che il rischio è riuscito di tantissimo a Bagnoli, e quindi ci ha mandato anche una scosetta su queste cose qui, sono contenta che la decima municipalità abbia preguito a Zappuola e Zappuola. Ce la faremo! Ce la è un'intervento che vorrei fare io, sono Alessandro Calabrese, sono candidato al Consiglio Comunale, quel Consiglio Comunale che il signor Lettieri, che è di fronte, non ha visto neanche una volta in cinque anni, e se ci è andato poche volte, sono pure assai, siamo stati più volte noi, tra i cittadini di Bagnoli, con i quali abbiamo scritto il nostro protamba, che è lui il Consiglio Comunale, sulle nostre tasse, è andato al Consiglio Comunale pochissime volte, è una vergogna, non è cambiamento questo, è stati di politica, siamo a Bagnoli, quella stessa Bagnoli che lui ha definito in campagna elettorale favorevole al commissario, uguale alla valente, non c'è differenza, forse d'area il PD, sono la stessa cosa, tutto questo mio tempo lo potevo utilizzare per parlarvi del nostro programma, non l'ho voluto fare per un semplice motivo, perché il nostro programma l'hanno già scritto i cittadini e quindi è già risaputo tra i cittadini che l'ho scritto, passo la parola a Gennaro Giuliano che ci fa anche qui un saluto, un saluto a tutti i cittadini italiani, sono Gennaro Giuliano, l'ha stato un saluto a tutti i cittadini italiani, e quindi volevo dire che praticamente, oltre come già vi ho raccontato, andiamo un po' in giro per altre qualità di interessanti e dei problemi sulla disabilità, l'unica cosa che posso dire è che praticamente un po' tra le altre forze politiche, ma non per una questione di meno rispetto, ma non l'hanno fatto altro e continuano a copiare, o comunque a scogliazzare, diciamo, quelli che sono un pochettino i nostri programmi, c'è quello che ho avuto nella cittadinanza con un movimento cinque strade che porta avanti. Però a noi non interessa proprio, noi andiamo avanti per la nostra strada in modo tranquillo e sereno che la cittadinanza ovviamente sarà dalla nostra parte. Dio e non rimettere su queste strade. Chiedo a Lino. Lino, dove interviene, ok? Ok, passiamo la parola alla vostra consigliere regionale, Maiuscara. Allora, questo è l'esempio, questa è l'arroganza anche potendo convivere negli stessi spazi, senza darsi partidio e ognuno con le proprie ragioni, questa è l'arroganza, l'arroganza di questi signori che stanno lì, è la stessa arroganza che noi ogni giorno ritroviamo in Consiglio regionale, ed è l'arroganza di chi ha il potere, di chi ha i soldi, di chi fa anche combattere giornate e mesi per una legge, per una mozione, per cercare di fare il bene comune. Poi arrivano loro che sono coraggiati, che hanno la lobby alle spalle, votano e bruciano tutto il tuo lavoro. Allora, quello che vi dico, noi dobbiamo fare una lobby, la lobby delle buone pratiche, così come questi signori qua, quelli e quelli più sopra, sono tanto sensibili quando arriva la forte azienda, la multinazionale e li solletica anche dal punto di vista economico, perché quella è la vera tentazione che chi va al governo della regione o della città possibisce, diventano sensibili e fanno quello che vogliono loro. Vi dico questo esempio perché stiamo combattendo da un anno circa in regione una battaglia che è quella dell'acqua pubblica. L'acqua che invece, bene, da questi signori che stanno lì, l'acqua che un referendum, quello del 2011, ha cancito come bene essenziale per l'umanità, questi signori hanno pensato bene di privatizzarla. Non solo, ma affidano l'acqua a dei gestori, come per esempio quello della Gori, un'altra battaglia che in regione stiamo combattendo da un anno. la Gori è debitrice nei confronti della regione Campania di 400 milioni di euro. Immaginate 400 milioni di euro le cose che la regione Campania potrebbe fare negli ospedali, nelle scuole. Ma ci si lamenta sempre, ogni provvedimento non ci sono i soldi per farlo. Immaginate se la regione è fatta da questi signori qua, che sono gli stessi, che sono gli stessi, che anche loro possassero alla porta della multinazionale e dicessero, guarda, scusa, hai un contratto trentennale per la gestione dell'acqua, perché il contratto per l'acqua è di 30 anni, ci devi 400 milioni di euro. Hanno fatto fissa di nulla, è un anno che combattiamo tra le carte, le minacce, perché immaginate che cosa c'è dietro questa cosa. Abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti, d'altro ieri, e fortunatamente adesso la Corte dei Conti si sta occupando di questo grande business che è l'acqua della regione Campania. Allora, siamo simpatici, siamo antivatici, siamo scassi ambrella, siamo tutto quello che volete voi. Però siamo così come ci vedete. Io sono rimasta uguale a quello che ero un anno fa e rimarrò la stessa. Allora, se dovessi cambiare, fatelo sapere, avvistate di tutto quello che sta succedendo qualche cosa. Per favore, non diamo che la vinta. Questi signori dall'acqua, sono avvicinato a un attimo, stanno promettendo case, perché dice, i bagnonesti hanno bisogno di case, perché loro vogliono speculare. Allora, ce la dobbiamo fare, assolutamente, in bocca al lupo, buon voto, trascinate dietro di voi qualcun altro a votare e facciamo la cosa giusta. Grazie. 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 in questi mesi. Onestà! 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 Perché non possono pronunciare. Volevo dire che finalmente stasera abbiamo visto un simbolo dietro a un nome. Questo simbolo è- Machine Italia, che rappresenta un partito che aveva derubricato il reato ambientale e aveva portato una multa amministrativa e non le persone che devono andare in galera se fanno un reato ambientale. Invece noi, primo firmatario Salvatore Micillo, abbiamo fatto la legge sui reati ambientali. Chi inquina deve andare in galera? Allora questi signori che vengono a Bagnoli, a Bagnoli, dove l'hanno rovinata, rovinata, a dire che per loro chi inquina deve solo pagare qualcosa e torno, hanno sbagliato indirizzo, hanno sbagliato indirizzo. Gli ospiti a Bagnoli devono fare gli ospiti e chiedere scusa di aver inquinato e tornarsene a casa. Lo stesso deve fare il Partito Democratico, perché la signora Valente è il Partito Democratico che ha messo le ecopalle della regione Campania che cortesemente non solo deve chiedere scusa ai cittadini, ma deve pagare i danni ambientali per quello che ha fatto, i danni ambientali per i morti che ha provocato a Napoli come nel resto d'Italia una politica industriale che ha messo al primo posto il lavoro, al posto della salute dei cittadini. Ricordatevi quando il 5 giugno andrete a mettere una X su quella scheda che questi due partiti hanno rovinato le nostre vite di tutti quanti e devono chiedere scusa per quello che hanno fatto. E quando vengono a Bagnoli sono ospiti, mentre qua c'è gente che ci abita a Bagnoli. E quando dico ospiti si bussa alla porta e si cerca di capire dalle persone che abitano cos'era Bagnoli e cosa l'hanno fatta diventare questi signori Bagnoli e cosa deve tornare a essere Bagnoli. E quando tu sei ospite queste cose non le sai perché tu magari vieni solo a prendere un piatto di pasta il 5 di giugno e poi te ne torni da dove sei venuto. Vieni se i ragazzi vogliono vivere in un posto migliore che stanno cercando di ricostruire in questi dieci anni di Movimento 5 Stelle a Bagnoli. Detto questo, oggi per me è un giorno bellissimo perché vorrei che continuasse questo momento di campagna elettorale. Per me è però un giorno particolare oggi perché due anni fa è morto mio fratello di tumore, mio fratello di 46 anni a Milano perché si muore anche a Milano. Però mio fratello è morto in un posto dove il fratello di Berlusconi Silvio, Paolo Berlusconi, ha fasteggiato ed è stato condannato per sversamenti illegali di rifiuti. E quindi una delle cause della morte di mio fratello è di quel coglione che fratello è il figlio di Berlusconi. Non sempre l'ora, non sempre l'ora! La polizia è rappresentata, è stato degno di questo modo di fare fuori vita. Allora rimandiamo l'ammittente questa gente perché questa gente l'ha fatto morire. Noi farà morire i nostri figli ma non glielo permetteremo. Se ne devono tornare con le loro fabbrichette, con le loro fabbrichette dove le vogliono fare, non certo qui. Perché qui deve tornare a essere un posto dove si possa fare il bagno. Noi oggi siamo andati a Ponticelli, siamo andati a Via Caraccio e siamo venuti qua. Perché per noi il mare deve tornare a essere il mare, una risorsa per tutti i cittadini e per tutti gli esseri viventi. il mare ci vogliono dei pesci e ci vuole l'uomo che faccia il bagno. Invece qua al mare l'hanno fatto diventare una discarica perché tanto loro gliene fotte niente. L'importante è fare i soldi con le fabbriche. Allora gli imprenditori tornassero a fare le fabbriche che non abitiremo a fare il sindaco di Napoli. bravo Matteo! bravo Matteo! bravo! hai e io allora! Matteo 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 Matteo! Matteo 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 è la buona però è! onestà Roberto vuoi dire qualcosa? devi chiudere la campagna elettorale si chiude con Roberto io voglio dire una cosa a questo proposito perché ieri sera Roberto ha detto una cosa bellissima per me ha detto Matteo hai detto le parole che avrei utilizzato io io in questi dieci anni che sono a Napoli ho portato avanti sempre le persone del meetup prima e del movimento poi perché sapevo che avrebbero rappresentato quello che io sentivo e quello che io pensavo Roberto lo sa, Paola lo sa e altre persone ho sempre portato avanti il progetto 5 Stelle perché chiunque ci sia dietro quel simbolo siamo noi, siamo rappresentati tutti noi da quel simbolo Roberto è stato una delle prime persone che ho incontrato nel meetup a Napoli, ti ricordi al Gomero nel 2006 che mi pigliavate per il culo come mi pigliate per il culo adesso perché c'era questo milanese strano Brambilla a Napoli però questa cosa è diventata poi nel tempo una cosa che ha unito delle persone nelle storie le storie si sono intrecciate alla fine la vita la vita è bella per questo perché alla fine tu sei il testimone di un progetto allora Roberto in questi dieci anni ci ha passato poi il testimone a qualcuno di noi adesso noi lo passeremo a qualcuno tra cinque anni magari migliore di noi perché il bello dei cittadini è che c'è sempre qualcuno migliore di noi però non si mette mai in gioco noi dobbiamo fare in modo in questi anni di far sì che le persone migliori ci seguano e non lasci lo spazio alle persone peggiori di questa nostra città le persone migliori si devono mettere in gioco non possono più stare a guardare quando mi chiedo perché ti sei candidato perché io dico io non posso più stare a guardare questa roba qua perché io penso di essere una persona per bene e le persone per bene devono stare avanti quindi Roberto che è una persona per bene deve e ci ha rappresentato e continuerà a rappresentarci come il Movimento 5 Stelle perché Roberto nella sua persona che io conosco da dieci anni è sempre stato questo una persona per bene come lo siamo tutti noi e non ci dobbiamo vergognare di nulla ci andiamo a prendere questa città bravo la si mangia